Un banchetto per sensibilizzare i cittadini a votare no al referendum costituzionale di dicembre è l'iniziativa del meetup Movimento 5 Stelle quarto che domenica ha allestito una postazione in piazzale Europa per informare i cittadini sui cambiamenti che la riforma voluta dal governo Renzi a firma del ministro Boschi porterebbe alla nostra costituzione. Una modifica che non porterebbe evidenti semplificazioni alla vita politica del paese ma che secondo gli attivisti del Movimento 5 Stelle sembrerebbe più una limitazione della democrazia. Non l'accettiamo in tutti i suoi punti quello fondamentale è che si toglieranno parecchi diritti ai cittadini infatti le firme per esempio per il referendum passeranno da 50.000 a 150.000 E a coloro che sostengono una riduzione dei costi della politica il Movimento 5 Stelle risponde che si tratta di pura demagogia. Per diminuire il numero dei parlamentari non di una camera di fatto bastava cambiare il regolamento del Parlamento e farlo in quella sede, non c'era bisogno di mettere mano alla Costituzione. Avere due camere è un valore aggiunto, molti detrattori del no dicono che così si velocizza, non è vero perché quando si sono volute fare delle leggi vergogna ci sono volute settimane, pochissimi mesi, quindi non è quello il problema. Il problema era che c'è un alto numero di parlamentari, quello andava sì, dimezzato secondo me e comunque pure togliendo una camera i costi del Senato rimangono uguali. È un risparmio irrisorio, quasi ridicolo, quindi pura demagogia.